ciao siamo arrivati al penultimo video quindi è molto simile al primo è questo quindi magari sarà un po più breve abbiamo un approccio imbattere questa volta sempre sulle triade maggiori quindi abbiamo sempre con accordo la maggiore che ti ricordo poi diteggiare anzi ti consiglio di diteggiare sempre 2 1 4 la maggiore abbiamo la do diesis mi e la acuto quindi dito 2 cambio corda dito 1 dito 4 sulla corda di la e poi dito 4 ancora per prendere l'ottava e poi a blocco ci spostiamo sul 6 sul sol scusa prendiamo sol si re sol poi sul re maggiore re fa diesis la re e poi sul mi sol diesis si comunque è tutto scritto tutto tablato ad un ascolto può sembrarti chiaramente come come prima cioè se approccio una nota rimane sempre così quel che cambia il riferimento ritmico sotto come come spesso avrei già capito soprattutto in questi in questi tutorial quindi qua fondamentale come al solito la batteria d'accompagnamento il nostro approccio dovrà essere imbattere quindi la ghost note dovrà arrivare sul suono della cassa oppure del rullante cassa rullante e la nota reale dovrà arrivare se metto ad esempio una ghost quindi il primo dei tre esercizi sul secondo sedicesimo quindi fai caso a questa cosa quindi cerca sempre di contare tutti i sedicesimi e cercare di interiorizzarli il più possibile in modo da poter dominare e dirgli tu su quale sedicesimo vuoi suonare e che cosa ghost oppure nota reale bene grazie ci vediamo ancora per per l'ultimo video a presto buon lavoro